Io ho sempre detto che Luca portasse luce, luce vera, e credo che abbia portato luce vera alla nazionale. Nella nazionale i giocatori avevano visto in lui, al di là della malattia, la forza in cui lui combatteva questa sua malattia e ha dato una grande forza in più e io credo che qualsiasi singolo giocatore della nazionale voleva arrivare all'obiettivo proprio per dedicare questa coppa a Luca. Grazie. Io ho un colossale tentativo di truffa ai danni della morte, perché è l'unica arte che ti restituisce un tempo presente e per sempre. Il cinema è il motivo per cui io posso innamorarmi ancora adesso, sinceramente, di Brigì Bardò. Io a Pierdomenico Baccalari, Massimo Prosperi e Marco Ponti dico grazie, perché noi avremo la possibilità domani di innamorarci sempre di questa storia, noi, i nostri figli, i nostri nipoti, per sempre, sarà un'impresa eterna, della storia della nostra Brigì Bardò e la San Noria, purtroppo è una questione di cuore e di famiglia e per cui per quello noi vi ringraziamo. E per chiudere, prima di chiamare qua sul palco, diciamo, le autorità locali, vi regalo un'ultima chiosa, un saluto, che sono sicuro che vi farà sorridere, che, diciamo, è di Luca, che ogni tanto chiudeva le telefonate in questa maniera. Da Corociano, passo a giro, Luca Diagli e Propribo, ciao! Grazie, grazie.